Terra, facciamo 15 minuti di allenamento, total body a terra. Solo terra, solo terra. Pedalo, 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 la chicca ha sbagliato bere, non doveva bere, doveva tenere la sete. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ancora otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due e uno. A terra, continuo a pedalare però. Ancora sedici, otto, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto. Uno, due, tre, cinque, quattro, tre, due e uno. Ginocchio al petto, tiro, tiro. Intanto dondolo sulla tena e mi metto in ginocchio perché a terra non vuol dire piaccicate a terra, vuol dire anche in ginocchio. Allora, muoviamo i fianchi, muoviamo le gambe, muoviamo le spalle come... Su, uno, due, sempre la stessa parte, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ancora, stessa parte, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, cambio parte. Sette, e, otto, due, tre, quattro, cinque. Una parte è più difficile dell'altra. Sette, otto, ancora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due. E se alterna, uno, uno, due, due, non sedici, tre, tre, se no otteniamo i nostri quindici minuti con questo. 5, 6, 7, 8, 7, 8. L'ultimo qui. L'ultimo qui. Piegate un saltino al tappetino E saltiamo anche da qui Cosa facciamo? Uno, uno Qui Uno, uno Qui Due, due Qui Due, due Qui Tre, tre Qui Tre, tre E Quattro Cinque Sei Sette E otto Stop Rilasso Come va? Ne facciamo ancora una serie perché è divertentissima Eh? Sì, sì Non vi piace? Oh Su Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Stop Allungo È bellissimo Che brutto Era pure divertente Visto che abbiamo forzato un po' sulle spalle Facciamo un po' di glutei Che ne dite? No? Anche questo sarà molto divertente Gamba Davanti Giro un po' Gamba Davanti Giro Incrocio Tocco Con la punta del piede La terra di là Quindi qui Incrocio E On Due Tre Quattro Cinque Sei Sei Sette Otto 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 Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Uno E con questa gambetta Ancora semplicemente Più giù Sedici On Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto O Sette Sei Cinque Quattro Tre Due E uno Cambio gambetta Vado Incrocio Otto Due Tre Quattro Cinque Sei Che dolore Sette Otto Questo fa già male Otto Sette Sei Sei Cinque Quattro Tre Due E uno Semplicemente Su Spinte Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto 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 Sette Sei Sei Cinque Quattro Tre Due Due E uno Tre Tre Sentite Sentite dolore? Tanto poco Non è che dite tantissimo perché avete paura che vi faccia fare ancora una serie Ora Andiamo a fare Cobra Stendo E Scendo Ok Cobra Stendo Piego 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 Su Scendo Quattro Su Possiamo anche piegare le ginocchia E scendo Anzi facciamo così così noi facciamo di più Sei Appoggio Scendo pian piano Sette Sette Appoggio Scendo Pian piano Otto Su Appoggio Scendo Pian piano Otto Su Appoggio Scendo Sette Su Appoggio Scendo Sei Su Appoggio Cinque Su Appoggio Quattro Su Appoggio Tre Su Appoggio Due Su E No C'è ancora uno E che stop E Su Spoggio E Giù E Sciolgo Come va? Benissimo Anche a me Anche a me pareva No Mancano cinque Sei sette minuti Sì Dunque Quadricipiti Andiamo con il nostro Rabarbaro Zucca E In verità Lo possiamo modificare Facciamo così Da giù Salgo Scendo Su E giù On On Due Tre Quattro Non mi chiedo Cinque Sei Sette Sette Come va? Otto E ce ne sono ancora otto Otto Glutei contratti Addominare i contratti Sette Sei Cinque Tre Quattro Tre Due E Uno Stop Ci mettiamo A terra Temorali E Addominali Insieme Puntiamo il tallone Puntiamo il tallone Solleviamo il bacino E Crunch Qui Giù On Due Tre Quattro Cinque Cinque Sei Sette Otto Ancora Otto Sette Sei Cinque Tre Quattro Quattro Tre Due E E Uno Appoggio Il bacino a terra Ed ora Stendiamo una gabbetta Piego Stendo Crunch Gio Giù Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Ancora Otto Sette Sette Sei Cinque Quattro Tre Due E Uno Cambio Qui On Due 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 Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Ancora Otto Sette Sei Cinque Quattro Quattro Tre Due E Uno Stop Porta un salto Le ginocchia al petto E poi per rilassarci Alziamo le gambe Mettiamo le mani sotto i glutei E facciamo un po' di adduttori Un Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Dieci Nove Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Ancora Otto Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Otto Sette Sei Cinque Quattro Quattro Tre Due E Uno Stop Portiamo ancora le ginocchia al petto Come va? Non parla più nessuno Appoggi i piedi a terra A cavallo A cavallo La gamba destra sopra la gamba sinistra Braccia larghe Scendo dalla parte sinistra Piano piano Testa dalla parte opposta Centro Centro Cavallo A cavallo A cavallo E scendo Centro della parte opposta Centro Cavallo Porto le ginocchia al petto Tondolo sulla schiena E Mi siedo Tutto bene? Sì Ci siamo rilassate Poi da casa Andate a riprendere il video E lo rifate un'altra volta Sarebbe meglio farlo due volte Tutta la lezione Il relax tra un pezzo e l'altro non si fa più eh Solo al finale basta eh Quindi si salta il relax E su Giro Le spalle Respirone su E giù Ancora una volta Su E giù E giù E giù Bravissime